Allora, questa sera a Rotten Festival abbiamo presentato il primo spettacolo in concorso che è Il Baciamano di Maglio Santanelli, diretto da Antonio Grimaldi. Antonio, come hai pensato questo spettacolo? Cosa ci hai messo di tuo? Allora, cosa ci ho messo di mio? Soprattutto che cosa ci abbiamo messo di nostro, vorrei dire, perché è stato un lavoro a tre, non è mai stato un lavoro individuale, ma è sempre stato un lavoro molto di gruppo, un lavoro in cui abbiamo discusso di tutto e di tutti senza proprio preoccuparci minimamente. Quello che sicuramente ho messo di me, ma non soltanto, ti ripeto, di tutti e tre, è stato l'umanità, è stato il fatto di presentarci al pubblico e questo poi lo stiamo riscontrando ogni volta che lo facciamo, proprio un ampio respiro di, se vogliamo, accavallato un po', mischiato un po' alla sofferenza, alla gioia, al rincorrere dei sogni probabilmente. C'è da dire che poi il testo, da questo punto di vista, ci ha molto aiutato. Però, ti ripeto, è stato un testo che abbiamo scavato e riscavato, rivoltato continuamente senza fermarci mai. Ok, e quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato nel interpretare i vostri due personaggi che sono personaggi molto forti? Innanzitutto, Yanara. Allora, difficoltà sì, sono tante. Sicuramente la ricerca di una verità. Io lo dico spesso questo, loro lo sanno, perché Yanara doveva essere una persona forte, debole, innamorata, arrabbiata, presente e assente, sognatrice e nello stesso tempo doveva tenere i piedi ben piantati a terra. Insomma, un personaggio così complicato, complesso, pieno di cose. Quindi, trovare la verità, la naturalezza, anche in una lingua, diciamo, come quella scritta da Amaglio, che appartiene a un napoletano molto antico, insomma, in questo posso dire che c'è stata la mia maggiore difficoltà. Però, concentrato alla fine, posso dire sicuramente la ricerca della verità in questo personaggio, perché penso che soltanto così possa emozionare il pubblico ed emozionare l'attore. Invece, Vincenzo Albano? Vabbè, al di là del nodo che mi costringe, del bavaglio, quindi, diciamo, per quanto mi riguarda, è uno spettacolo innanzitutto fisico, che comincia con una certa fisicità. La stessa fisicità io la cerco nel rapporto con Yanara, ecco, diciamo, e tornando al discorso della ricerca della verità, io parto da questo, parto dalla fisicità per trovare la mia verità nel rapporto con Yanara. Il mio mondo, ad un certo punto, si incontra con quello di Yanara, un mondo completamente diverso, perché io sono, come dire, quasi eterio nel mio modo di parlare, è quasi, invece lei, appunto, molto concreta, molto terranea, ecco. È uno spettacolo che, secondo il mio punto di vista, al di là delle prove, al di là dell'aspetto tecnico, non è mai uguale a se stesso, perché questa è la sedicesima replica, prima contavamo le repliche, e ci siamo resi conto che lo spettacolo vive di storia propria ogni volta che lo replichiamo, non c'è mai un aspetto tecnico che prevarica ciò che io e Annarita in scena viviamo al momento, nulla, per quanto studiato, per quanto diceva il regista, per quanto studiato, per quanto scavato il testo, per quanto ricercato, poi c'è molto di, come dire, di, c'è molto al momento, e quindi già quando, già per esempio quando cominciamo lo spettacolo, ci diciamo buon viaggio, ecco, già da questo, è un, come dire, è un viaggio questo spettacolo, mai uguale a se stesso, diciamo, per quanto comunque tecnicamente studiato, ma poi stravolto dall'emozione del momento, ecco, quindi... E quando la diciassettesima replica? A breve, a breve, a breve, sì, sì, siamo a Rimini, siamo a quest'altro concorso e abbiamo già superato diverse fasi, quindi arriviamo a Rimini, vediamo che succede, se vinciamo, bene, andiamo avanti, se no, si va avanti uguale, ecco, sì, grazie a voi.